Dario ci siamo su Facebook? Hai muto pure tu Dario? Ok ci siamo. Sta configurando. Ci siamo ci siamo ci siamo. Ok buon pomeriggio a tutti. Allora il primo luglio abbiamo lanciato questa iniziativa di arrivare fino alla luna tutti insieme. Anche questa volta gli atleti di Special Olympics sono stati la nostra grande ispirazione. Quanta attenzione per le regole avete avuto, hanno avuto in questi mesi. Quanto è stato grande il loro impegno durante i nostri Smart Games. Quanto ci stupiscono ogni volta che viene data loro la possibilità di esprimersi. Quanto affetto ci donano, quanto entusiasmo leggiamo nei loro occhi durante una gara. Quanta voglia di esserci e gioia di vivere ci insegnano. Quanto ci ispirano ogni giorno. Beh se potessimo misurarlo sarebbe proprio così. Sarebbe fino alla luna e ritorno. To the moon and back. I nostri atleti ci insegnano che l'impossibile può diventare possibile. Proprio come arrivare sulla luna. Allora oggi siamo circa in mille ad accumulare i chilometri corsi, camminati, fatti in bici. Ed aumentiamo ogni giorno. Siamo arrivati a più di 60.000 chilometri percorsi. Ma non finisce qui. Quindi abbiamo pensato che oggi dovevamo avere l'asso nella manica. Giocarci un po' un asso nella manica. Qualcuno che di spazio, di luna, se ne intenda davvero. E allora il nostro ospite il 28 maggio 2013 è partito dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan in direzione della Stazione Spaziale Internazionale. È stato il suo primo viaggio nello spazio ed è rimasto fino a novembre dello stesso anno. La missione prevedeva la sua partecipazione ad almeno due passeggiate spaziali. La prima delle quali ha avuto luogo il 9 luglio 2013 ed ha avuto una durata di 6 ore e 7 minuti. È diventato quindi il primo astronauta italiano a svolgere delle attività extraveicolari, vuol dire nello spazio ma fuori dalla navicella spaziale. Poi lui mi correggerà se sbaglio, ma io ho capito così. Il 20 luglio 2019 è partito a bordo della navicella Soyuz MS-13. Nella seconda parte della missione ha ricoperto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Pensate che è stata la prima volta che questo ruolo è stato assegnato ad un italiano, eh? Che orgoglio! Il 25 gennaio 2020, durante un delicatissimo intervento per riparare lo spettrometro magnetico alfa, che non ho idea di che cosa sia, ma penso che sia una cosa importante così dal nome, ha superato il record europeo di permanenza fuori dalla propria navicella spaziale, 31 ore e 54 minuti. Poi dopo mi spiega perché non ha fatto altri 6 minuti che arrivavamo alle 32 ore, tonde tonde, però va bene pure così, 31 ore e 54 minuti fuori, eh? Nello spazio. Quindi ecco, noi oggi, ed è per me veramente un grandissimo onore presentarlo a tutti voi, Luca Parmitano. Luca, tu sei stato sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi ce la puoi ben due volte, no? Ce la puoi raccontare questa avventura? Queste due avventure? Ma hai già detto tantissimo tu, innanzitutto buongiorno, fammi salutare tutti i partecipanti, che piacere essere qui, che onore, grazie all'invito, una grandissima gioia. L'avventura spaziale, le due avventure, le due escursioni fuori dalla Terra che ho fatto, sono sicuramente uno dei momenti più belli da un punto di vista sia professionale che umano, perché è un po' un sogno che si realizza, è un po' come per un atleta giungere alla gara e poi completare tutta la gara e giungere al traguardo. Per un astronauta è chiaro che è bellissima la fase di addestramento, è bello imparare, apprendere, prepararsi, poi chiaramente trovarsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è almeno altrettanto interessante. La Stazione Spaziale Internazionale, per chi non ha molte competenze di astronauti, ed è normale non averle, è un laboratorio, un laboratorio orbitante, a circa 400-420 km di quota, e a bordo della stazione il nostro lavoro è quello di fare tanti, tantissimi esperimenti, circa 200 esperimenti per ogni incremento di sei mesi, gli astronauti a volte sono gli scienziati, a volte partecipiamo, a volte siamo le cavie noi stesse degli esperimenti, e poi chiaramente tutta la vita a bordo, inclusi anche gli allenamenti fisici che facciamo ogni giorno, due ore e mezza al giorno, per mantenere il nostro fisico in forma, anche in condizioni di microgravità. Senti Luca, qual è la sensazione che si prova nel momento in cui si parte dalla Terra? Cioè si viene sparati ad altissima velocità nello spazio, che sensazione c'è? Allora, io immagino che la maggior parte di noi abbia esperienza di volo commerciale, quando siamo seduti sull'aereo, siamo sulla pista, pronti al decollo, il pilota davanti dà tutto il motore per prendere velocità, e sentiamo quella spinta dietro la schiena, è un po' una piccola sensazione di peso sullo stomaco, sul petto, e quella è l'accelerazione che ci schiaccia sul sedile. Ora, se la moltiplicate per 10-15 volte, più o meno è la sensazione che abbiamo durante la partenza, perché la nostra navetta deve andare da 0 km a 250 km, da 0 km all'ora a 28.000 km all'ora in 8 minuti e 48 secondi. Quindi è una forte accelerazione che ci porta ad avere un peso, una sensazione di peso corporeo, quattro volte e mezza rispetto alla normalità. Quindi ci sentiamo proprio schiacciati come se una mano gigantesca ci premesse sul petto. Però è anche divertente perché è molto dinamico, è un po' come le montagne russe, è anche l'inizio dell'avventura. Quindi a me è sempre piaciuto moltissimo sia la preparazione al lancio nella navetta che il lancio stesso. È un momento molto bello, di grandissima gioia e anche di tanta concentrazione, è chiaro. Senti, invece la sensazione quando esci dalla navicella e vai nello spazio invece, che tipo di sensazione hai? C'è di vuoto? Che tipo di sensazione hai in quel momento? Ti racconto subito con una piccola correzione. C'è la tendenza a chiamare la stazione navicella. La stazione spaziale internazionale copre la superficie di un campo da calcio, quindi chiamarla navicella è un po' riduttivo perché in realtà ha il volume di un 747 in tre dimensioni, quindi è molto molto grande. Noi a bordo siamo soltanto in sei, quindi la stazione effettivamente è molto grande come... Vi ci perdete? È più un'astronave che una navicella, ecco. E sì, all'inizio qualcuno ci si perde pure. La sensazione è difficile da descrivere, sai perché? Non c'è un equivalente terrestre, innanzitutto non c'è un equivalente terrestre alla sensazione di microgravità, di assenza di peso. Non è possibile davvero imitare quella sensazione. E poi c'è un altro aspetto che non solo quando sei all'interno della stazione, sei in microgravità, galleggi, ti muovi, quindi già sperimenti su di te qualcosa di assolutamente diverso e di unico, ma quando sei fuori adesso trasporti tutto questo insieme di emozioni e sensazioni in un ambiente che è proibito, proibito per tutti, perché soltanto pochissime persone hanno avuto il privilegio di effettuare attività extravicolari, perché per poterlo fare serve un addestramento particolare, serve uno scafandro che ti protegge dal vuoto, dallo spasso, dal freddo, dal caldo. Però ancora una volta c'è l'aspetto, oltre all'aspetto professionale del lavoro che vai a far fuori, perché chiamarle passeggiate, anche lì, è un po' fuorviante, perché di fatto è una maratona, sono tante tante ore consecutive di lavoro all'interno di questo scafando, che è molto difficile da gestire. Quindi c'è un aspetto professionale importante, c'è anche un aspetto umano, emotivo, di trovarsi immersi nell'ambiente, nello spazio, quindi separati dal vuoto dell'universo da pochi millimetri di tessuto protettivo e poi con solo il casco, la misiera del casco, separati dalla vista della terra, dello spazio. È veramente difficile da descrivere, perché le parole non sono adatte a trasmettere davvero l'insieme di emozioni e sensazioni che ti vengono incontro. Se parlo troppo difficile, dimelo, perché chiaramente per me è difficile. No, 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 in realtà un pochino ce lo stai trasmettendo e come? No, lo comprendiamo che non è facile spiegare, insomma, a noi che non ci intendiamo di queste cose, in parole semplici, quello che tu vivi, chiaramente, no, lo so che non è semplice, ma stai facendo benissimo e ci riesci a trasmettere molto bene tutte le emozioni. Ora voi dovete sapere che lui è un grande sportivo, quindi adesso lascio la parola ad un altro sportivo, nostro atleta, per rivolgere, insomma, una domanda, perché so che Federico ce l'ha una domanda per Luca. Vai, Fede! Ciao Luca, so che hai fatto il triathlon, sei un Ironman, nuoto, corsa, bici. Luca, nello spazio, che sport praticate? Ma una domanda che volevo farti, quando uscite dalla navicella, non avete paura? Ciao Federico, innanzitutto è un piacere conoscerti. Sono due domande molto, molto, molto interessanti, perché a bordo, giustamente, dici, come fai a fare sport a bordo della stazione spaziale internazionale, dove non c'è peso, non c'è l'effetto gravitazionale. Abbiamo tre macchine a bordo della stazione, che ci permettono di fare corsa, indossando un'imbragatura con degli elastici che ci collegano alla base di un tapirulano. Quindi riusciamo a fare corsa sia attivamente, quindi con il motore che corre sotto e noi che siamo dietro su questo tapirulano, oppure in maniera passiva e siamo noi a spingere il motore del tapirulano. Quindi questo è il primo sport, la corsa. Il secondo è la bicicletta. Abbiamo a bordo della stazione una ciclette, come quelle che abbiamo sulla terra, però senza sedile e senza manubrio, perché noi galleggiamo nello spazio e quindi utilizziamo solo le gambe e i pedali per attivare questa macchina. E il terzo sport che possiamo fare è il sollevamento pesi. Abbiamo una macchina che funziona con delle leve e dei pistoni a vuoto che ci permette di fare gli stessi movimenti e lo stesso sforzo dei pesi in una palestra anche a bordo della stazione spaziale internazionale. Ecco come facciamo sport. La seconda domanda è molto bella. Se abbiamo paura, innanzitutto dobbiamo dire questo. Tutti, tutto il mondo, tutti gli esseri viventi hanno paura. Ed è importante perché la paura è uno strumento che serve a salvarci la vita. Quindi è importante gestirla, è importante comprenderla. L'antitodo per non aver paura, l'unico modo è conoscere, è sapere, è studiare. Più studi, più conosci, più sai, meno paurai, perché comprendi quello che può succedere. Quindi quando noi andiamo a fare un'attività extraveicolare, quando noi usciamo dall'astronave, non pensiamo alla paura perché sappiamo come dobbiamo gestire noi stessi e le nostre macchine per risolvere le situazioni. Bene. Grazie Luca, grazie Fede. Adesso vedo che Miriam vuole fare una domanda. Vai Miriam. Miriam, ti devi attivare il microfono, ti ricordi? Devi attivarlo tu, perché Lisa te lo ha attivato. Vai. No, non lo riesci ad attivare. Ecco, vai. Fatto, vai. Per me è vivere in assenza di peso e poi riabituarsi al peso corporeo. Ciao Miriam. Allora, il nostro corpo è fantastico, è straordinario perché nell'arco di poche settimane, anche quando arrivi in orbita dove non c'è peso e quindi vivi un'esperienza che non hai mai vissuto prima, in pochissime settimane il tuo corpo si adatta. e siccome vivere senza il peso corporeo è molto facile, è molto bello per il corpo perché fai meno fatica, ti sposti, basta un dito per spostarsi da una parte all'altra della stazione, il corpo si abitua e tu ti dimentichi cosa vuol dire avere un peso corporeo. Quindi il problema è che poi devi tornare a terra. quando rientri tutto un tratto dopo sei o sette mesi di permanenza in orbita in cui non hai avuto un peso te lo ritrovi tutto addosso. Tutto un tratto, tutto in una volta da che non pesavi niente io peso 85 kg me li sono ritrovati sulle spalle e sul corpo e quindi all'inizio sembra estremamente faticoso perché è come se tu tutto un tratto dovessi prendere te stessa e mettertela sulle spalle come portarti te stessa addosso. Quindi per un paio di settimane è molto molto faticoso. Io mi ricordo che anche sollevare un braccio i muscoli del collo per tenere la testa in equilibrio perché comunque la testa ha un peso le braccia hanno un peso. Quindi all'inizio è molto faticoso ma fortunatamente il tuo corpo si adatta di nuovo anche a tornare in gravità e quindi dopo qualche settimana riesci di nuovo a sentirti a tuo agio nonostante ti riporti di nuovo il peso corporeo addosso. Però ecco ci vuole un po' di lavoro un po' di riabilitazione. Noi lavoriamo con i nostri con i nostri trainer con i nostri allenatori per rimetterci in forma quando rientriamo. Grazie Luca e grazie a Miriam per la domanda. Carlotta vai Carlotta ti devi sempre attivare il microfono eh vai e no ancora no Carlotta non l'hai attivato riprova vai Carlotta vai vai ecco ci sono ci sei vai devo fare una domanda a Luca aspetta è vero che gli esperimenti che si fanno andare nello spazio sono utili nella vita degli altri. Ciao Carlotta che bella domanda è una domanda importante perché fondamentalmente tu stai chiedendo non solo a me ma a tutti gli astronauti a tutto il programma spaziale che ci andate a fare sulla stazione spaziale internazionale. Allora innanzitutto io parto da questo concetto che la scienza e la conoscenza sono importanti in ogni caso anche quando non abbiamo un risultato pratico studiare l'universo studiare il mondo comprendere come funziona è molto importante perché ci distingue da tutti gli altri esseri viventi questa nostra curiosità quindi già sarebbe importante capire cose nuove che prima non sapevamo però giustamente dici tu voi andate nello spazio è importante è costoso cosa cosa portate a terra? Bene ora ti racconto perché i nostri esperimenti poi portano dei risultati anche a terra nell'ultima missione ho effettuato per conto dell'agenzia spaziale italiana e per conto dell'agenzia spaziale europea tanti esperimenti che hanno a che fare con la fisiologia quindi con il corpo umano in cui io stesso sono un soggetto anzi ti faccio vedere che in questo momento io sto indossando un esperimento un esperimento addosso per completare la raccolta dei dati di tanti esperimenti che ho fatto in orbita questi esperimenti di fisiologia ci fanno capire aspetti del nostro corpo che altrimenti non possiamo studiare a terra ad esempio aspetti neurovestibolari cioè come funziona il nostro cervello per mettere d'accordo tutti i sensori del nostro corpo ad esempio come reggiamo gli oggetti come facciamo a tenere in mano delle cose senza sapere qual è il loro peso il nostro cervello lo capisce in automatico e questa è una cosa che stiamo studiando in orbita dove togliamo abbiamo un ambiente diverso oppure altri esperimenti sulla parte interna delle orecchie che ci permette di stare in equilibrio lo studiamo in un posto in cui questi strumenti questi sensori devono funzionare in modo diverso facciamo esperimenti sulla dieta su come equilibrare il nostro contenuto calorico e la nostra quello che mangiamo fondamentalmente per restare in forma per migliorare le nostre prestazioni tutti questi esperimenti che effettuiamo in orbita poi possono essere portati sulla terra studiati e applicati alla gente normale alla gente che non deve andare nello spazio ma lo fa sulla terra per vivere meglio per stare meglio oppure per aiutare persone che possono avere dei problemi ad esempio abbiamo studiato in orbita come funzionano certe cellule che si aggregano e creano problemi come il Parkinson o come l'Alzheimer quindi tutti questi studi servono poi per farci capire meglio come possiamo utilizzare la nostra scienza sulla terra per la gente comune grazie Luca grazie Carlotta adesso abbiamo tantissime mani alzate quindi ragazzi vi avviso che non possiamo proprio fare tutte queste domande perché sono un po' tantine però iniziamo piano piano magari ancora Luca ce lo dedichi ancora qualche minuto facciamo un altro paio di domande va bene? assolutamente siccome guarda io mi sono liberato quasi tutta la mattina quindi cerchiamo di rispondere finché riusciamo andiamo avanti ok va bene allora vedo Fulvio Fulvio vai adesso Lisa ti dà il microfono e poi quindi tu devi attivarlo ciao Alexandra sono fermata in valutà ciao saluto Luca ok saluto Luca così lo conosco ok mi senti pronto pronto ti senti ti sentiamo benissimo io la sento mamma dietro che ti dice di parlare ad alta voce ma di lì che ti sentiamo di lì che ti sentiamo benissimo Luca voglio conoscere Luca ok e l'hai conosciuto perché sta qui vai vai fagliene una vai ok ti manca la terra cosa mangiate lassù quando andrai sulla luna basta tre al prezzo di uno vai aspetta aspetta che hai il microfono da attivare Luca e Lisa devi ok vai sì se lo lasciate se mi lasciate il microfono attivato poi ci penso io a chiuderlo quando serve ok innanzitutto saluto Fulvio dalla Val d'Aosta che mi ha fatto ciao ciao Fulvio piacere di conoscerti il piacere è tutto mio allora la prima domanda se mi manca la terra in realtà quando siamo a bordo noi la vediamo tutti i giorni la terra la vediamo da lontano però sappiamo che è lì quindi in realtà cerchiamo più che altro di goderci il tempo che siamo in orbita quindi in un certo senso potremmo dire che ci manca ma più che altro ci mancano magari i nostri affetti io ho due figlie quindi mi mancavano molto le figlie perché non le potevo abbracciare anche se parlavo con loro tutti i giorni quindi più che la terra in se stessa che lì la vedevo e continuo ad amarla come sempre mi mancavano più che altro i miei affetti sulla terra poi la seconda domanda è sul sul cibo che cosa mangiamo se non sbaglio giusto? allora la dieta di un astronauta è molto simile a quella a quella terrestre la differenza è come prepariamo il cibo perché a bordo non abbiamo il forno non abbiamo il fornello non abbiamo pentole perché ovviamente nulla resterebbe dentro dentro il contenitore quindi dobbiamo adattarci a cucinare in un altro modo quindi il nostro cibo è tutto già pronto come quello che puoi comprare già pronto anche al supermercato e il nostro lavoro consiste nello scaldarlo ad esempio carne pollo paste vari tipi di pasta anche delle zutte lo dobbiamo solo scaldare oppure dobbiamo aggiungere acqua per reidratarlo perché il nostro cibo è stato preparato senza acqua in modo da essere leggero una volta che lo scaldiamo che aggiungiamo l'acqua calda o fredda dopo un po' diventa cibo normale quindi abbiamo un menu abbastanza grande con verdure carni anche pesce in scatole e così via e poi quindi possiamo mangiare un po' di tutto e ognuno sceglie ognuno sceglie quello che preferisce e quello che gli piace di più e io ho portato anche cibo italiano a bordo per condividerlo con i miei colleghi non so se tu hai un piatto preferito la prossima volta magari me lo faccio preparare qual è il tuo piatto preferito Fulvio? la cotoletta impanata la cotoletta impanata la cotoletta impanata non c'è la prossima volta vediamo se riesco a farne preparare una che ne so magari verrai con me in orbita e poi la terza domanda era sulla luna se non sbaglio? quando andrai sulla luna? questa è una domanda è una domanda difficile Fulvio perché chiaramente è una cosa nel futuro e quindi è impossibile prevederlo però ti posso dire questo che l'agenzia spaziale europea e l'agenzia spaziale italiana stanno lavorando con la NASA che è famosissima per andare sulla luna entro i prossimi dieci anni e con un po' di fortuna non so quando non so se fra cinque sei non lo so quando ma con un po' di fortuna forse anche io potrei andare sulla luna speriamo entro i prossimi dieci anni portami anche me portami anche me vuoi venire anche tu sulla luna? io vedevo i film Guerre Stellare e Start Trek per i viaggi di astronave che la forza tra te anche tu potremmo fare maestri geni cosa dici? la spada laser ma magari 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 la forza io mi chiamo Luca come Luke Skywalker quindi chiaramente per me io sono un grande appassionato di fantascienza e digli sei come un grande maestro geni grazie Pulpio grazie grazie Luca abbiamo anche Aurora vai Aurora Aurora ti dà il microfono vai ciao Luca ciao Aurora voglio fare una domanda riguardo del cibo io però ho visto telegiornale non lo so se questa è una cosa esatta che quando mangiate qualcosa il cibo questo è vero che ho visto a telegiornale il cibo vola eh sì ho visto proprio così a telegiornale insomma Luca il cibo vola è vero abbiamo visto il microfono Luca il microfono è muto ma secondo me non lo stiamo toccando noi lo tolgo io perché quando parlano gli altri sento dell'eco allora sì sento dell'eco è vero che il cibo vola sì ho scritto la domanda allora il cibo effettivamente se noi non se noi non facessimo nulla il cibo volerebbe dappertutto è vero perché siamo in micro gravità quindi dobbiamo stare attenti quello che facciamo è normalmente quello che tu vedi in tv al telegiornale è un nostro modo per fare vedere nei eh fare vedere alla gente che siamo in orbita e quindi un po' giochiamo con il cibo facendolo volare normalmente quando siamo quando siamo per i fatti nostri e mangiamo eh lo teniamo contenuto nelle delle dei piccoli contenitori in modo che altrimenti andrebbe a sporcare dappertutto immagina se se mangiamo la zuppa e la facciamo volare dappertutto poi dobbiamo dobbiamo pulire dobbiamo pulire costantemente quindi bisogna fare un po' di attenzione quando mangiamo in modo che non ci siano degli schizzi in giro però il cibo è tutto tutto galleggia in orbita compreso il cibo è vero assolutamente vero grazie allora per la domanda Aurora abbiamo Andrea Pagliaro vai Andrea no Andrea hai attivato e poi lo hai disattivato riprova quello che hai fatto prima perché l'hai attivato per un secondo no non ci riusciamo senti Andrea allora facciamo passiamo alla domanda dopo e poi magari torniamo da te se ci dici che lo riesci ad attivare ok vai Andrea vai devo dire una domanda allora una domanda facile dalla navetta come hai fatto uscire come hai fatto uscire dalla navicella 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 allora preparatevi preparatevi perché questa è una risposta molto tecnica purtroppo non c'è un modo facile di spiegarlo chiaramente sulla stazione spaziale internazionale non puoi aprire la porta perché altrimenti l'atmosfera che c'è dentro la stazione uscirebbe verso nel vuoto quindi dobbiamo fare qualcosa di particolare come funziona in questo come funziona gli astronauti indossano lo scafandro e sono quindi si preparano a vivere e a lavorare nel vuoto dopodiché i due astronauti che devono fare la passeggiata spaziale l'uscita vengono messi dentro una camera stagna una camera stagna è un ambiente piccolo che fa da tramite da anticamera alla stazione e allo spazio immaginate quindi due porte gli astronauti entrano in questa piccola camera la porta viene chiusa e viene sigillata dopodiché prendiamo l'atmosfera che c'è all'interno di questa camera e la pompiamo per non perderla per non gettarla fuori perché comunque è ossigeno azoto tutte cose importanti che dobbiamo mantenere e le prendiamo e le portiamo le pompiamo dentro la stazione a quel punto siamo già nel vuoto all'interno di questa camera stagna e possiamo aprire la seconda porta quindi abbiamo chiuso questa la stazione è isolata apriamo l'altra porta abbiamo creato il vuoto dentro la piccola camera siamo aperti all'esterno e a questo punto gli astronauti possono uscire utilizzando lo scafandro per vivere per lavorare dopodiché a rientro quando tutto è finito facciamo la procedura opposta gli astronauti entrano dentro la camera stagna chiudiamo il portellone esterno prendiamo l'atmosfera e la rimettiamo dentro la camera stagna a questo punto la camera stagna è un ambiente normale possiamo aprire la porta interna verso la stazione a quel punto gli astronauti possono essere portati dentro il volume della stazione ecco fatto wow grazie Luca allora abbiamo Jacopo Rocchi vai Jacopo allora ciao a tutti ragazzi allora sono Jacopo sono del team liberi di fare sport di Tivoli e io Luca Parmitano lo seguo sempre insomma insomma mia madre anche è una fan dell'astronomia dello spazio e l'anno scorso ti abbiamo seguito quando eri sulla IS sulla stazione spaziale e ti vedevamo sempre ogni sera quando passavi e io infatti ti volevo porre una domanda no mo queste sere c'è la Neovice no e non lo so mi consiglieresti un orario in cui si può visionare come facciamo a visionare certo innanzitutto che splendida giornata che vedo alle tue spalle una giornata bellissima lì al mare sono molto contento per voi qui a Houston piove quindi se potessi essere attivo lì con voi a prendere il sole mi piacerebbe davvero tanto quindi ben trovati saluti tanti saluti alla tua mamma caro Jacopo allora per vedere la cometa Neowise questa sarebbe una domanda più per un astronomo che per un astronauta però siccome io sono anche appassionato di astronomia e ho un carissimo amico astronomo il consiglio è di guardare circa un'ora dopo il tramonto in un posto lontano dalle luci della città e cercare l'orsa maggiore conosci l'orsa maggiore quella costellazione a forma a forma di mestolo se vogliamo a forma quello che chiamate il grande caro guardando verso l'orsa maggiore quindi più o meno in direzione nord proprio sotto in questi giorni guardando un po' di sguincio un po' di dato per utilizzare la parte dell'occhio che vede meglio il buio possiamo vedere questa questa cometa poco sopra l'orizzonte quindi questo è il consiglio che ti posso dare grazie grazie prego prego ciao Jacopo buongiorno signora ciao Jacopo adesso abbiamo Lorenzo Tagliasacchi che secondo me è preparatissimo perché anche uno sfondo vedo particolare vai Lorenzo ti devi attivare il microfono salve hai tolto la tele ecco vai Lorenzo ciao volevo dire volevo fare una domanda a Luca vai allora io da grande vorrei fare l'astronauta come te e vorrei chiederti che tipo di studi si dovrebbero fare per appunto riuscire a arrivare a questo traguardo ciao Lorenzo tu sei già arrivato su Marte da quello che vedo che bellissimo allora ti faccio io una domanda per rispondere alla tua quali sono le materie che ti piacciono di più allora materie fisica matematica se non è proprio una materia ma astronomia la seguo molto cioè mi piace molto ogni sera mi metto per le stelle è assolutamente una materia l'astronomia non adesso magari perché sei ancora giovane quanti anni hai Lorenzo? io ho 14 14 anni allora ascolta davanti a te hai circa 20 anni nel tuo futuro prima di avere l'occasione giusta e l'età giusta e l'esperienza giusta per partecipare a una selezione per astronauti questo perché normalmente non c'è una scuola per diventare astronauti quello che succede è che tu vieni selezionato dal tuo mondo di lavoro dal tuo mondo di studi e così via e poi vieni preparato per andare nello spazio e non c'è un percorso di studi che sia migliore di un altro cioè quello che è importante innanzitutto essere curiosi e questo mi sembra che tu già ce l'abbia in base a quello che mi hai detto l'altra cosa è in mezzo a tutta la gente curiosa è essere bravi bravi in quello che si fa in modo che in modo che l'agenzia abbia voglia di selezionarti di prenderti perché sei bravo in quello che fai l'unico il modo migliore secondo me per essere bravi è di amare quello che si fa per cui piuttosto che dirti un percorso di studi perché per ognuno è diverso io ti consiglierei di seguire le cose che ti piacciono perché in quel modo continuerai ad amarle e sarai sempre bravo se ti piace la matematica l'ingegneria la scienza l'astronomia la fisica segui il percorso di studi che più si adatta a quello che a te piace sicuramente il liceo scientifico per esempio che è quello che ho fatto io è una scuola che contiene queste materie che le sviluppa bene e poi ti permette l'accesso in futuro all'università io sono entrato da giovanissimo in accademia aeronautica perché volevo volare mi piaceva il volo volevo provare questa ebrezza e mi ha permesso poi di seguire tutta una carriera che proprio a 33 anni quindi l'età che tu avrai fra 20 anni mi ha portato ad essere selezionato come astronauta ma non c'è una formula magica il modo secondo me la cosa importante è amare amare le proprie scelte amare quello che si fa amare il proprio lavoro i propri studi e alla tua età visto che sei curioso io ti consiglio anche questo vai a guardare anche le materie che in questo momento magari non ti appassionano tantissimo perché se non le provi non puoi sapere che ti piacciono magari ci sono tante altre cose la biologia la chimica che ti possono interessare lo studio della vita e magari guardando le dici ah questa è una cosa bellissima perché sai la scienza noi esseri umani tendiamo a dividerla in tante caselle da una parte mettiamo la fisica dall'altra mettiamo la chimica in mezzo alla matematica di qua ci mettiamo la biologia ma in realtà la scienza è tutta una e avere competenze in tante cose diverse è importante ed è estremamente appassionante quindi io ti auguro di essere sempre curioso e di continuare e di investire il tuo tempo nello studio nella conoscenza e di amare quello che fai grazie grazie mille grazie mille grazie prego grazie Lorenzo grazie Luca allora Vincenzo dichiera vai ok allora ciao a tutti tutto Luca e quanto è grande personale allora innanzitutto ciao Vincenzo allora premessa abbiamo una navetta che serve per andare dalla terra alla stazione e poi tornare dalla stazione verso la terra questa navetta è di già per sé un'astronave ma è molto molto piccola e in tutto permette di trasportare solo tre persone ed è più o meno grande come una grossa automobile più o meno lunga una decina di metri e quando rientriamo in realtà ne rientra solo una parte quindi è abbastanza piccola l'astronave invece la stazione spaziale internazionale come dicevo prima ad Alessandra è molto grande perché è lunga circa 70 metri 70 metri vuol dire che se la metti in verticale sarebbe alta come un palazzo di 25 piani quindi molto molto grande molto lunga e poi con sopra ha un traliccio ha un traliccio che è lungo quasi 100 metri e quindi se la mettessi in verticale sulla parte della parte del traliccio sarebbe ancora più alta sarebbe 100 metri in un palazzo di 35 piani quindi veramente un grattacero e poi ha la superficie dei pannelli solari che sono talmente grandi che se li metti su un campo da calcio lo hai visto lo conosci un campo da calcio si è grande se lo metti sopra un campo da calcio la stazione copre tutta la superficie di un campo da calcio ok grazie Vincenzo ciao Vincenzo allora senti Luca quindi possiamo contare su di te cioè ci aiuti ad arrivare sulla luna in qualche modo fai con noi questi passi perché secondo me se tu attivi un GPS un giorno o l'altro insomma ci aiuti ad arrivare sulla luna ci arriviamo al volo ti unisci agli atleti special olympics in questa cosa ci supporti allora io non ho l'applicazione che voi state utilizzando per raccogliere i dati che se non sbaglio è la Runtastic ognuno utilizza delle applicazioni diverse per seguire il proprio allenamento sappiate che io mi alleno tutti i giorni se mi dite la data di partenza e la data della fine vi mando tutte le mie distanze che ho coperto con la corsa e con la bicicletta perfetto va benissimo d'accordo allora allora d'accordo e a questo punto io lascerei adesso lasciamo un attimo lo spazio ad un intervento splendido che ci aiuterà a visualizzare ancora meglio quello di cui ci ha parlato Luca e il nostro viaggio verso la luna prima intanto voglio ringraziare per essere stati qui con noi il nostro direttore europeo di special olympics david evangelista e so che c'è il presidente del panatron italia giorgio costa il vicepresidente la federazione rugby Marco Chessa delegato della sindaca pendino e molti giornalisti quindi ringrazio veramente tutti di essere presenti qui oggi e anche tutto il nostro board ora lascerei la parola al professor Angelo Lucio Antonelli dell'osservatorio di Roma per appunto commentare le immagini che andremo a vedere che ci spiegheranno questo cosa troviamo da noi alla luna per arrivare alla luna vai professore le lascio la parola si può attivare il microfono e Dario dovresti inviare mandare il video va bene intanto buonasera a tutti è un grosso ciao a tutti buonasera a Luca è sempre un piacere sentirlo io ho avuto modo di vederlo dal vivo all'agenzia spaziale italiana dove ho lavorato anch'io per un po' di tempo e e sì eccoci qua diciamo il mio ruolo questa sera è quello un pochino di raccontare appunto dal lato dell'astronomo questa questa corsa verso la luna che cosa dove stiamo andando cosa 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 andremo a vedere cosa andiamo a trovare allora vediamo questo video ecco qua allora innanzitutto la luna è il satellite della terra il satellite naturale della terra si è formata poco dopo poco dopo la terra e orbita a a una distanza media di circa trecentosessantasettemila chilometri ci sono dei momenti in cui si avvicina un po' di più dei momenti in cui è un pochino più lontana perché non è un orbita perfettamente circolare per raggiungerla dobbiamo dobbiamo prendere un razzo oppure andiamo a piedi come stiamo facendo in questi giorni diciamo il metodo migliore ovviamente è prendere un razzo come quello che ci ha che ci ha raccontato Luca che prende che prende lui per andare sulla stazione spaziale quindi il primo passaggio è quello appunto di uscire dall'orbita terrestre quindi abbiamo bisogno di di superare la la forza di gravità della terra dobbiamo raggiungere la cosiddetta velocità di fuga per uscire dall'orbita terrestre e ehm iniziare il nostro viaggio il nostro percorso verso verso la luna allora mentre ci incamminiamo perché non guardare verso terra perché non guardare le l'immagine del nostro paese visto dall'altro Luca ci ha fatto vedere un sacco di foto che ha fatto lui quando era nella stazione spaziale delle foto fantastiche e però noi appunto il nostro obiettivo è quello è quello di raggiungere la luna il il nostro il nostro satellite che sta lì ci aspetta quindi noi continuiamo a camminare a correre ad andare in bicicletta per raggiungere per raggiungere la nostra meta e appunto il passaggio successivo è cosa incontriamo strada facendo beh diciamo che vicino la terra incontriamo cose che abbiamo messo lì noi quindi qui intanto stiamo sorvolando la terra a 300 chilometri incontriamo la stazione spaziale che eh Luca ci ha raccontato qui queste sono delle bellissime immagini prese dalla stazione spaziale quella luce verde che vedete che vedete sulla terra sono le aurore boreali che sono un effetto dei raggi cosmici carichi che vengono dallo spazio esterno e che interagiscono con il campo magnetico terrestre e fanno queste queste luci fantastiche eh noi continuiamo continuiamo a camminare continuiamo a correre eh verso verso il nostro satellite verso verso la nostra verso la nostra luna passiamo accanto a Luca che sta lì che sta trafficando per fuori dalla stazione spaziale come come ci ha raccontato ti facciamo ciao Luca mentre passiamo e continuiamo appunto dopo essere passati a fianco alla stazione spaziale eh andiamo ancora un po' più lontano a 600 chilometri troviamo quelli che sono i satelliti eh per per fare la scienza anche per osservare l'universo ad esempio il più famoso di tutti forse è l'Hubble Space Telescope il telescopio spaziale da due metri di diametro che oramai sono più di vent'anni che è in orbita e che ci ha permesso di conoscere sempre meglio il nostro universo perché facciamo volare un un telescopio fuori dall'orbita fuori fuori dalla terra perché ehm sulla terra noi abbiamo l'atmosfera terrestre che ci dà fastidio invece eh facendo volare il nostro strumento al di fuori dell'orbita terrestre scusate al di fuori dell'atmosfera terrestre eliminiamo degli effetti dell'atmosfera e ehm e e questo ci aiuta a studiare meglio l'universo quindi a cercare nuovi mondi a guardare altre galassie altri sistemi di stelle come quelli che stiamo vedendo adesso sistemi di stelle come la nostra galassia noi viviamo in una regione in una regione di spazio che ha questo aspetto qui che stiamo vedendo c'è un insieme di polvere gas e stelle cento miliardi di stelle la nostra galassia che eh appunto sono tenute insieme dalla forza di gravità e quante galassie ci sono nell'universo nell'universo ce ne sono veramente tante a naso a spanne stiamo sui sui cento miliardi di galassie ogni galassia cento miliardi di stelle quindi potete immaginare quanti stelle quante stelle e anche quanti possibili sistemi planetari ci possono essere sistemi planetari che probabilmente hanno anche loro pianeti che hanno anche loro dei satelliti così come noi abbiamo la nostra Luna continuando la nostra corsa il le altre cose che incontriamo lungo la strada sono la costellazione dei satelliti GPS a ventimila chilometri quelli che ci permettono di di vedere di trovare la strada sul nostro cellulare a trentasemila chilometri invece ci sono i satelliti geostazionari per le telecomunicazioni che invece ci permettono di vedere le partite di calcio che vengono fatte in altre parti del mondo e ad oggi la nostra navicella speciale fatta da da tutti quelli che stanno correndo verso la Luna per questa manifestazione è arrivata come abbiamo detto quasi a sessantamila chilometri sessantamila chilometri vuol dire che circa un sesto del percorso che ci separa dall'arrivare dall'arrivare alla Luna quindi di strada ne è stata fatta già parecchia ma ce ne manca ancora tanta ce ne manca ancora davvero tanta per arrivare ma sicuramente sicuramente ce la facciamo per arrivare appunto al nostro satellite che qui vedete accelerato le fasi della Luna ogni ventotto giorni la Luna nella sua orbita intorno intorno alla Terra viene illuminata dal Sole quindi assume tutte le varie le varie fasi e qui grazie ai filmati della NASA girati ai tempi delle missioni Apollo vediamo che cosa si vede quando ci avviciniamo alla Luna ci stiamo avvicinando alla superficie lunare e vedete che appunto la superficie appare piena di di buchi di di crateri questi crateri sono sono dovuti all'impatto di di meteore la Luna si è formata molto probabilmente l'ipotesi più accreditata per la formazione della Luna è che quando si stavano formando i pianeti del sistema solare probabilmente un pianeta che era più o meno delle dimensioni di Marte quindi circa la metà della Terra ha urtato si è scontrato con la Terra e da questo da questo urto si è staccato un pezzo e questo pezzo è andato a formare la Luna poi una volta che la che la Luna si è formata si è ha cominciato a subire il bombardamento delle di tutto quello che c'era rimasto nello spazio circostante quindi per questo si sono formati trateri piccoli e grandi la Luna è più piccola della Terra circonsesto e questo qui fa sì che il la gravità è decisamente inferiore per cui come vedete correre sulla Luna camminare sulla Luna è molto diverso che non farlo sulla Terra si pesa molto di meno si fa meno sforzo e probabilmente anche colpa delle rute spaziali che ci permettono di sopravvivere in un ambiente così ostile diciamo per la vita dell'uomo sembriamo un po' più goffi a a fare questo queste passeggiate ma sicuramente sicuramente si fatica si fatica di meno io appunto auguro di cuore a Luca di poter correre pure lui sulla Luna così come come i suoi colleghi come i suoi colleghi americani di tanti anni fa e poi appunto siccome noi siamo dei comodoni a un certo punto non è bastato andare a piedi ma ma addirittura abbiamo portato abbiamo portato una macchina sulla Luna per per provare come si va in macchina sulla Luna e qui vedete in queste immagini al di là del divertimento che l'astronauta sicuramente sta provando queste immagini ci aiutano anche a capire meglio come è fatta la superficie della Luna come vedete appunto c'è della polvere tanta polvere che ricopre il terreno poi ci sono rocce che sono un po' i residui di quella che era l'attività della Luna quando si è formata e poi successivamente al bombardamento delle meteore che hanno formato tutti i crateri che noi oggi vediamo in realtà la Luna ha avuto anche un periodo in cui c'era un'attività interna e quindi c'erano anche della lava che scorreva per cui possiamo trovare dei tunnel di lava sulla Luna che peraltro potrebbero essere utili in un futuro per rendere la Luna almeno i sotterranei della Luna abitabili e sulla via del ritorno vi aspettiamo spero che finita questa emergenza Covid vi aspettiamo tutti quanti qui all'Osservatorio Astronomico di Roma veniteci a trovare e mi auguro che anche Luca ho avuto qui ospite Samantha Cristoforetti ho avuto ho avuto anche ospite il primo astronauta italiano quindi spero spero anche tu Luca possa durante i tuoi prossimi giri possa venirci a trovare ti aspettiamo grazie professore Luca noi chiaramente saremo insomma è un po' anche il nostro sogno se tu riuscissi ad andare sulla Luna quindi noi questa cosa te la auguriamo e un po' di Special Olympics verrà con te eventualmente ecco sappilo e noi ti ringraziamo davvero tanto di essere stato ringraziamo il professor Angelo Lucio Antonelli perché ci ha descritto questo viaggio che noi stiamo facendo insomma ci ha detto anche che siamo solo a un sesso del tragitto quindi ci manca un po' da fare però abbiamo tutta l'estate davanti e ringrazio te perché oggi ci hai trasmesso moltissime insomma emozioni e ci hai fatto entrare in contatto con un mondo che incuriosisce tantissimo quindi Luca grazie non so se vuoi commentare questo video se vuoi lanciare un messaggio agli atleti Special Olympics prima della conclusione Assolutamente non voglio annoiarvi oltre con storie di astronautica soprattutto perché dopo essere andati sulla Luna con il con il professore credo che qualsiasi mia conversazione sull'orbita bassa terrestre sarebbe noiosa però invece vorrei dirvi questo che io ho portato nel 2013 con me la maglia della della squadra olimpionica della squadra paralimpica della che aveva partecipato ai giochi nel 2012 quindi mi ero già già voluto in qualche modo dare la mia la testimonianza della mia ammirazione per questi per questi straordinari atleti e poi quest'anno nella missione con la missione Beyond ho portato a bordo la maglia nazionale di basket parolimpica italiana campioni nel mondo ancora una volta perché ho questa intima convinzione che spero che il messaggio venga interpretato correttamente io sono un appassionato della sfida perché ritengo che sia l'unico modo per migliorarsi per evolversi ovvero guardare guardarsi intorno trovare un ostacolo e studiare il modo in cui superare è l'unico l'unica vera sfida per come la vedo io è quell'ostacolo che tu ritenga impossibile da superare e ce ne sono tanti ognuno di noi ha i suoi ha i suoi ostacoli che riteniamo non poter mai superare e allo stesso modo in cui questa per me è l'unica definizione di sfida la mia definizione di vittoria è di tentare comunque anche quando sai non poter superare lo stadio e credo che in questo senso gli atleti che oggi ci stanno guardando che oggi ci stanno osservando che mi hanno fatto le domande siano i più grandi vincitori che possiamo guardare ai quali possiamo guardare davvero con ispirazione e ammirazione quindi io li ringrazio la loro forza il loro coraggio del loro spirito indomabile mi danno forza ispirazione ogni giorno nelle mie piccolissime sfide e quindi è stato davvero un piacere poter parlare con loro un onore incontrarli e spero di poterlo fare di persona il prima possibile grazie grazie davvero Luca allora noi in conclusione continueremo la nostra scalata verso la luna tutti insieme continuiamo a coinvolgere persone che vogliono intraprendere questa impresa con noi ragazzi e continuiamo a camminare a fare sport a tenerci in forma guardate poi sulla pagina facebook e sul sito per avere gli aggiornamenti sull'iniziativa sai Luca devi sapere che per noi di Special Olympics nei mesi scorsi è stato proprio importante sentirci tutti uniti ci ha fatto sentire più forti e noi dobbiamo continuare così avviciniamoci alla luna insieme rendiamo possibile l'impossibile come ci insegnano proprio i nostri atleti arriviamo sulla luna nell'attesa di rivederci tutti in uno dei nostri prossimi eventi dove speriamo di vedere anche te Luca e dove gli abbracci dei nostri atleti il calore dei nostri volontari le attenzioni dei familiari torneranno ad essere i veri protagonisti e ci faranno rivivere le emozioni che noi tutti ben conosciamo quindi grazie a tutti per la partecipazione di oggi grazie Luca grazie professore grazie e buona estate a tutti ciao arrivederci ciao 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 ciao